C'è anche l'innovativo test del DNA Anima Genomics, tra i prodotti dell'azienda Vita Group dell'imprenditore aquilano Marco Reato, che dalla sede principale del capoluogo sta diffondendo le sue sedi in tutto il mondo ormai. Anima Genomics sta avendo molto successo tra gli aquilani e non solo. L'attività di Reato ultimamente ha sempre più virato verso la salute e il benessere e il test è il fiore all'occhiello. Prodotto da Dante Labs consente di conoscere le chiavi del codice genetico di ognuno e realizzare piani di cura personalizzati e programmi di vita su misura. Anima Genomics però è molto di più perché è anche una fortunata collaborazione tutta aquilana tra Reato e il giovane manager Andrea Riposati, l'AD di Dante Labs che ha ideato i test più completi e avanzati al mondo per tracciare la mappa del DNA umano allo scopo di conoscere il proprio corpo e poter promuovere una prevenzione scientificamente testata e che ora nella sua sede al Tecnopolo d'Abruzzo all'Aquila e nel Lab della Croce Rossa a Monticchio è impegnata ad effettuare i tamponi molecolari per il Covid con risposte entro le 12-24 ore. L'aspetto importante però per Vitagruppe è anche la formazione di giovani e la creazione di sempre più posti di lavoro. Fatto molto importante soprattutto in questo momento di crisi, l'azienda aquilana considera come capitale sempre le persone. Soddisfatto Marco Reato per i suoi successi nonostante il periodo difficile per tutte le aziende con l'Aquila che rimane il centro propulsivo di tutte le sue attività. Abbiamo avuto una crescita di 32 punti, un anno come questo che purtroppo con forte dispiacere si registrano situazioni in giro per l'Italia nel mondo molto negative perché il Covid ha fatto i suoi danni. Io penso di sapere perché noi abbiamo fatto il segno più, un po' siamo stati penalizzati da tutte le chiusure che ci sono state. Un po' siamo stati premiati dal prodotto esclusivo. Abbiamo avuto già dei contatti molto concreti con società estere e in Italia anche con strutture della sanità molto molto importanti. Visto che il prodotto Anima tocca anche il concetto del fitness in maniera estremamente concreta stiamo entrando in contatto con delle società sportive di calcio di altissimo blasone che hanno aderito a far fare il test ai giocatori della prima squadra perché quantomeno per il fitness un professionista non può non fare il test Anima Genomics. Anima Genomics